Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte. In primo piano la cronaca negli appartamenti del quartiere Cristo di Alessandria. Negli ultimi mesi si sono verificati una miriade di furti. Per contrastare il fenomeno i residenti hanno messo in atto una serie di iniziative, partendo da una maggiore collaborazione per presidiare il territorio e quindi segnalare ogni cosa sospetta agli inquirenti. E proprio dopo una segnalazione di due residenti una volante della polizia è intervenuta ed ha arrestato due ladri che fuggivano lungo i binari della ferrovia. Tutti particolari nel servizio di Franco Capone. Una banda di ladri albanesi che aveva preso di mira le abitazioni del quartiere Cristo di Alessandria, fra l'altro già razziati da furti commessi negli ultimi mesi, è stata sgovinata dagli agenti della sezione di pronto intervento da quest'ultimo di Alessandria in collaborazione con il nucleo radiomobile del comando provinciale di Alessandria. Lo hanno reso noto nel corso di una conferenza stampa il maggiore dei carabinieri Massimiliano Girardi, comandante del nucleo radiomobile, il commissario capo Antonio Natale, dirigente della sezione volante della questura di Alessandria. La banda, pendolari del furto, proveniente dall'internat milanese, si alternava con nazionali albanesi i quali a loro volta decidevano quando e come agire in appartamenti dell'Alessandrino. Molte le persone indagate, due quelle arrestate in fraganza di reato, sono Alfred Trottil, 26 anni, e Christian Fenga, di 20 anni, albanesi residenti nella cintura di Milano. I due ladri pendolari, è stato detto dal commissario Antonio Natale, conoscevano bene i movimenti delle loro vittime, nomi ed indirizzi. L'ultimo colpo messo a segno, in un'abitazione via Pietro Micca, ad Alessandria, ai danni di un 52enne, per la banda è stato fatale, perché grazie alla collaborazione dei cittadini, le forze dell'ordine sono riusciti a bloccare la coppia di ladri dopo una movimentata cattura. La loro fuga lungo la linea ferroviaria che divide via Tonso da via della Malanzana è finita dopo pochi minuti. Sul posto, insieme alle volanti, giungevano anche i carabinieri che hanno permesso la cattura dei due malviventi. Uno dei due ladri, Alfred Trottil, prima di essere immobilizzato, ha cercato nuovamente di fuggire, colpendo con calcio e pugno uno dei poliziotti. Dopo un sopraluogo nella zona dell'avvenuta cattura, le forze dell'ordine hanno trovato un borsello pieno di orologi di valore e oggetti preziosi, bottino dei furti commessi, valore oltre 5.000 euro. In fine la polizia aveva notato che i ladri, durante la fuga, avevano tentato di sparsi in un grosso cacciavite, lanciandolo all'interno di un cortile dell'abitazione, poi recuperato dalle stesse forze dell'ordine. Quando lo stalker è il ragazzo della porta accanto, va a processo per aver perseguitato i vicini di casa e lui nega. Sentiamo Emma Camagna. Incomprensioni, schrezzi, litigi non sono tanto rari tra vicini di casa, raramente però degenerano. È successo a Mandrogne, protagonisti, coniugi Massimo D'Angelo e Serena Cipriano, giovane copia con figlia piccola, le vittime. Stefano Amarelli, 39 anni, dipendente Solvè, il persecutore, come sostegna l'accusa. È imputato di Stolghi, sarà processato a febbraio e in abbreviato. Il difensore Davide Bianchi intende patteggiare i coniugi, costituirsi parte civile con Claudio Simonelli. Ma perché? Non hanno resistito all'allarme che scatta all'improvvisa, i pugni sul muri, alle martellate di notte, agli insulti, colpi di bastone contro il cancello in metallo della casa e l'hanno denunciato. Lui nega, dice di essere stato infastidito a lungo dai cani della coppia e di avere reagito ma non nei modi denunciati e senza avere come obiettivo le persone ma solo gli animali. Già in precedenza però, per episodi analoghi, era stato condannato dal GUP a un anno e otto mesi, pena ridotta in appello a otto mesi. Il legale dei coniugi insiste sullo stress causato dagli ossessivi comportamenti del vicino di casa, che avevano reso impossibile la loro vita. E osserva che anche il precedente inquilino era stato costretto a vendere quella casa di Mandrogno perché disturbato da Merelle. Altra cronaca, diamo la linea alla redazione di Torino dove c'è Roberto Monteriso. Ben trovati telespettatori, noi torniamo a parlare di meningite perché quella che ha stroncato il giovane di Valperga nei giorni scorsi sarebbe di un ceppo molto raro. In ogni caso, la morte del ragazzo ha fatto aumentare le richieste di vaccini a pagamento, le ultime nel servizio. Secondo le prime notizie, arrivate dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma, quella che la scorsa domenica ha stroncato Vittorio Bonetto, il 25enne di Valperga, deceduto alle Molinette di Torino dopo aver festeggiato il Capodanno in Francia, sarebbe una forma di meningite non comune. Nessun dubbio, insomma, che sia trattato di un caso di meningite, ma meningite da meningococco, come avevano accertato le analisi condotte direttamente in ospedale, quindi diversa dalla meningite da pneumococco che recentemente ha colpito a Ciriè e a Casale. Restava da capire a quale ceppo tra i molti appartenesse il batterio. In questo senso, gli esami supplementari, per quanto parziali, fanno proprendere per un meningococco di tipo W. Ma sarebbero esami parziali perché la cultura in crescita del batterio contenuto nella provetta, ma andata da Torino, non è riuscita e dovrà essere ripetuta. Il condizionale è dunque d'obbligo, ma ci sarebbe un'affidabilità del 90%. Sembrano dunque esclusi i ceppi di meningite B e C, i più comuni in Europa, verso un ceppo poco diffuso alle nostre latitudini. Fatto che conferma come non sarebbe necessario modificare l'offerta vaccinale. In altre parole, il batterio di quel particolare ceppo non costituisce una minaccia in Italia e in Piemonte. Comunque la regione si prepara ad accelerare i tempi del piano di vaccinazioni per affronteggiare il numero di richieste di vaccini a pagamento arrivate in queste settimane. Un vero e proprio assalto per il quale il personale in servizio non basta più. Una sorta di psicosi che in Piemonte non si era mai vista e che è peggiorata con la morte del ragazzo. Molte sedi che effettano le vaccinazioni sugli adulti hanno già aumentato le ore di apertura per far fronte a tutte le richieste. Lo hanno fatto Ivrea e Quornier. A Settimo Torinese e Cirie invece dove gli ambulatori funzionano su prenotazione si stanno allungando i tempi di attesa. Ed ora diamo uno sguardo al meteo perché un'altra spruzzata di neve è attesa nel pomeriggio di oggi in Piemonte anche se l'allerta meteo scatta per la pioggia congelante prevista sul basso Piemonte e i venti burrascosi di venerdì con raffiche oltre 100-120 km orari che si spingeranno fino in pianura. La pioggia congelante spiega il comunicato della SMI la società meteorologica italiana particolarmente insidiosa è prevista in particolare nelle valli Alessandrine dello Scrivia e Cuneese e Alessandrina del Tanaro mentre nei vischi e neve con depositi modesti un paio di centimetri su pianura e colline riguarderanno tutta la regione ma soprattutto il nord-est del Piemonte. Venerdì in pianura tornerà poi il sereno ma l'aria fredda porterà le minime fino a meno 10 gradi a quota mille metri e meno 7 in pianura. La nevicata di martedì intanto nonostante sia stata ampiamente prevista ha provocato disagi su tutto il territorio piemontese soprattutto in collina e nelle vicinanze di scuole e uffici pubblici. Oggi la situazione pare tornata alla normalità. Per il momento restituisco la linea ad Alessandria. Noi vi parliamo di una bella iniziativa perché partirà a fine gennaio un progetto promosso dallo Zonta Club di Alessandria e sostenuto dall'azienda ospedaliera locale a sostegno dell'autostima delle donne in chemioterapia. Alla presentazione dell'iniziativa era presente anche il dottor Gian Mauro Numico direttore del Dipartimento Internistico Strutturale dell'Ospedale Civile. sentiamo di cosa si tratta. C'è una bellezza che la chemioterapia non riuscirà mai a far sfiorire. È quella della forza interiore e di chi combatte il cancro in prima persona senza rendersi a nulla. Poi c'è una bellezza che si può recuperare con un piccolo grande aiuto. È questo il messaggio lanciato dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori che ha aperto una banca della parrucca a Taranto e che lo sta facendo a Roma. E in queste ore pure la città di Alessandria grazie all'interessamento dello Zonta Club farà rete in un progetto utile ed emotivo. Verrà realizzato con l'associazione BIOS Donne Operate al Seno con il plauso dell'azienda ospedaliera di Alessandria che ha ospitato la presentazione di questo percorso. Le donne devono sentirsi belle sempre anche in un momento di difficoltà quindi quando si affronta la chemioterapia la perdita dei capelli è quell'elemento che manda un po' in depressione manda un po' in confusione non si sa come presentarsi all'esterno la caduta dei capelli dimostra proprio questo la malattia quindi Zonta vuole intervenire in questo senso dare un supporto con un contributo per l'acquisto di una parrucca dando un riferimento certo su dove acquistarla perché spesso c'è anche abbastanza confusione su questo dove vado cosa faccio quanto spendo e soprattutto dare l'opportunità di presentarsi all'esterno non dico come prima della malattia ma in ogni caso belle a proprio agio quindi un contributo che varierà dal 30 al 50% per l'acquisto di un prodotto che ha una scadenza perché alla fine del periodo del ciclo di chemioterapia questa non servirà più e che speriamo grazie a BIOS che è il nostro partner le donne possano restituire per poi attivare un altro percorso felice che è quello della banca e della parrucca si è pensato che poiché da tanti anni alcune socie tutte le mattine dalle 8 alle 10 offrono la colazione in una nostra saletta alle pazienti che sono in attesa al day hospital sarà quello il punto di ritrovo di ritrovo il punto il posto in cui le donne che lo desiderano le pazienti che saranno magari avvertite dai medici poi ci sarà il solito passaparola tra malati e quindi chi lo desidera andrà al punto delle colazioni del mattino parlerà con le nostre socie che sono lì presenti tutte le mattine dalle 8 alle 10 e queste forniranno le indicazioni utili per recarsi in questo centro Viro dove la parrucchiera la parrucchiera comunque l'addetta seguirà queste signore consigliandole suggerendo insegnando anche a trattare le parrucche nel tempo si cercherà di fare in modo che le pazienti tra virgolette guarite restituiscano questa parrucca che verrà igienizzata e ripristinata sempre da questo centro Viro per cui nel tempo si creerà una banca della parrucca e ora andiamo a Novi Ligure dove sono stati presentati tanti progetti per il rilancio di questa città ce ne parla Enrico Maria il 2017 sarà un anno chiave per Novi Ligure gli interventi di manutenzione programmati dall'amministrazione in diversi punti della città di fatti sono molti si va dai 105.000 euro per la messa in sicurezza del muro di cinta dello stadio comunale ai 42.000 per la cura di verde ed un intervento di potatura del parco castello inoltre sarà sistemata l'intera area per i giochi dei bambini situata nei giardini pubblici di via Garibaldi la cui inaugurazione avverrà il primo maggio anche le mura storiche saranno messe in sicurezza con uno stanziamento di circa 80.000 euro con l'allargamento degli stalli in piazza 20 settembre poi ha preso il via un intervento per migliorare la segnaletica orizzontale e verticale in tutta la città che comporterà una spesa di circa 49.000 euro altri interventi riguardano i lavori di asfaltatura e sistemazione stradali per circa 97.000 euro e la riqualificazione degli edifici scolastici con 130.000 euro inoltre sono in programma due interventi attesi e finanziati dalla regione Piemonte vale a dire il ponte sul rio Torto e il ripristino del tratto combinato su Rio Gazzo e la sistemazione idrogeologica di aree limitrofe al concentrico cittadino inoltre grazie a un investimento di 230.000 euro saranno effettuati interventi di manutenzione al palazzetto dello sport alla pista di atletica e al patinodromo tra le novità previste rientra anche la cessione della farmacia comunale il cui bando sarà pubblicato entro la fine di febbraio nel 2017 l'amministrazione dovrà poi impegnarsi ad un confronto con la città su altre due questioni importanti la prima riguarda il nuovo teatro Marenco i cui lavori dovrebbero terminare alla fine del 2017 bisognerà però reperire delle risorse per gli arredi e a gennaio verrà presentato un piano per raggiungere questo obiettivo l'altra è relativa alla raccolta rifiuti l'assemblea dei 116 comuni ha deciso da tempo di attivare una raccolta porta a porta per tutte le frazioni insieme a gestione ambiente si stanno valutando le modalità migliori per raggiungere il risultato vale a dire aumentare la percentuale di raccolta differenziata per centrare gli obiettivi europei terminato l'anno della misericordia un nuovo giubileo concesso da Papa Francesco interessa la città di Ovada è l'unica in tutto il Piemonte ad esserne coinvolta l'occasione sono i 400 anni della fondazione dei padri scolopi il servizio è di Fabrizio Mattana l'anno della misericordia è terminato ma dovada è ancora giubileo infatti in occasione del 400esimo anniversario di fondazione dei padri scolopi Papa Francesco ha concesso a coloro che visiteranno chiese luoghi di culto dove si trova l'ordine delle scuole pie di ottenere l'indulgenza plenaria alle solite condizioni confessione comunione eucaristica preghiera per l'intenzione del Santo Padre applicabile anche al suffragio dei defunti ad Ovada la chiesa di Nostra Signora delle Grazie è l'unica in tutto il Piemonte retta dagli scolopi e questo fa sì che la città diventi per il 2017 punto di riferimento per coloro che vogliono riconciliarsi con Dio per quanto riguarda la diocesi di Acqui la congregazione fondata da San Giuseppe Calassanzio è presente anche a Carchare che però si trova in territorio ligure l'evento è stato annunciato dal padre provinciale padre Ugo Barani che recentemente ha incontrato il Santo Padre Francesco e ha ricordato come il Papa abbia definito questo anno giubilare come una nuova pentecoste degli scolopi perché 400 anni fa Papa Paolo V che approvò la regola calassanziana comprese che era lo spirito santo ad ispirare il fondatore a dedicarsi all'educazione dei fanciulli e la scelse come prima congregazione della chiesa dedita esclusivamente alla formazione dei bambini specialmente quelli poveri ricorrendo anche i 250 anni dalla canonizzazione di San Giuseppe Calassanzio il Papa ha ricordato che le circostanze in cui operano oggi gli scolopi sono le stesse e quindi gli esorta a rimanere fedeli al motto scelto per l'anno giubilare educare annunciare e trasformare rimanendo aperti alle indicazioni dello spirito l'anno 2017 dava quindi ai fedeli la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria e ciò sarà possibile fino al 25 novembre prossimo nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie sottolinea ancora il provinciale Padre Ugo verranno sicuramente organizzate iniziative per celebrare al meglio il giubilieo calassanziano intanto ogni giovedì è prevista l'adorazione eucaristica lungo tutto il corso della giornata la riqualificazione dell'area dei giardini pubblici di fronte alla stazione di Alessandria è iniziata con la demolizione di uno di tre ex bar che essendo chiusi da diversi anni sono ormai considerati dei veri ecomostri impresentabili all'ingresso della città per chi arriva alla stazione si è iniziato con l'abbattimento dell'ex bar Piccadilli le ruspe intervenute sono della ditta Testa Carlo Escavazioni che si è aggiudicata il lavoro d'abbattimento non è ancora stato deciso come sarà utilizzata l'area molto probabilmente ci sarà un nuovo bando per l'insediamento di nuove attività commerciali chi fosse interessato ad investire in un'attività al posto del bar dovrà partecipare ad una nuova asta prezzo base di 21.000 euro oltre ai 21.165 euro per il canone trentennale Ed ora la linea torna alla redazione di Torino dove parliamo di cinema perché dopo il successo della prima edizione sbarca il 19 gennaio prossimo il cinema massimo di Torino la seconda edizione di Fish and Chips l'unico festival internazionale in Italia del cinema erotico e del sessuale il festival proporà 4 giorni con 55 film 4 incontri 2 mostre un progetto fotografico live e gli omaggi a due signore del porno andiamo a scoprirlo è un festival dedicato alla sessualità in tutte le sue declinazioni si svolge dal 19 al 22 gennaio presso il cinema massimo di Torino il 19 gennaio apriremo con un film d'animazione Bella Donna of Sadness un film del 73 che proporremo un'anteprima nazionale nella sua versione restaurata abbiamo una sezione di omaggi dedicati a figure femminili e importanti per il genere pornografico non solo quindi Giuliana Gamba la prima regista italiana ad aver girato un film pornografico in Italia Marilyn Chambers una delle porno star della Golden Age del porno che omaggieremo con Via in the Green Door il film che l'ha lanciata e Rabid Sete di Sangue di David Cronenberg infine proporremo una selezione di cortometraggi del progetto Four Chambers un progetto inglese che fa cortometraggi pornografici sofisticati abbiamo due sezioni in concorso una sezione di lungometraggi con 11 lungometraggi in concorso e una di cortometraggi divisa in due sottosezioni una soft e una hard inoltre Fish and Chips non si esaurisce nella sala cinematografica ma ci saranno mostre incontri ed eventi molto bene per questa edizione è davvero tutto grazie per essere stati con noi la linea può tornare ad Alessandra Della C Noi siamo alla pagina sportiva tra poco il calcio a fatica la Juventus vince 3 a 2 contro l'Atalanta e raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia dopo un gran primo tempo trascinata da Di Bala la squadra di Allegri con un blackout di 20 minuti rischia di rovinare tutto andiamo ad ascoltare i dettagli nel servizio del nostro inviato Roberto Monteriso e poi come sempre le notizie utili grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni